ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono marco e oggi faremo la rebuilding dell'inter allora intanto vediamo la formazione titolare modulo, lasciamo questo fino a del no perché il 68 non va bene poi c'è la no, c'è la no, che modulo è? c'è la no, c'è la no, c'è a posto servirebbe se un esterno e un difensore centrale servirebbe vediamo se riesco a fare qualche soldo intanto io metto qualcuno in vendita allora ragazzi allora in questo video la stagione dura solo un anno per vedere quante cose può vincere l'inter in un anno intanto ci stanno arrivando offerte però rifiuto perché arrivano del giocatore che non ho messo in vendita intanto siamo fuori dal precampionato perché abbiamo perso tutte e due le partite quindi siamo fuori a l'azzaro questa è un'offerta che mi piace di 7 milioni allora ora cerco che io posso comprare vedo i soldi e posso comprare e ve lo faccio vedere allora ragazzi abbiamo 116 milioni vediamo allora abbiamo un sacco di soldi vediamo chi possiamo comprare allora cosa ci può servire ci può servire un attt e un esterno abbiamo un sacco di soldi allora c'è bei header buono qua sto vedendo poi mobile no 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 immobile no poi esterno 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 che c'è l'esterno forse sui c'è l'esterno leao 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 non costa così tanto io ultimo nella vita reale non deve mai succedere perché sennò spacco tutto sennò fa la fine c'è io offro una trentina di milioni più più qualcuna di sicuro qua no ecco più quello schifo di vesino qua hanno accettato hanno accettato allora io tratto tratto allora leao con leao l'ai e l'inter non si può vedere non si può vedere uno che vuole giocare sporadico, molto strano, secondo me potevo offrire di meno di 30 milioni, potevo offrire di 10 milioni più qualcosa di più, no no no, non le basta scrivono per favore, allora com'è tt, abbiamo 80 milioni, ho visto prima Ciro, Ciro costa un sacco, vediamo, abbiamo 86 milioni, forse ce la possiamo fare, vediamo se Ciro viene, intanto dobbiamo fare solo questi due acquisti perché poi la squadra è buona, vediamo se posso dare qualcuno, Kolarov, Kolarov più 60 milioni, vediamo che dicono, no, però vogliono 111 milioni, se io vedo 100 milioni, 102, 102, hanno accettato 102 milioni, vi facciamo il contratto e vediamo se accetta, cruciale, 2 anni, un'interclausola, e gli diamo 140, facciamo la vibra, accettato, ora simulo e vi faccio vedere la stagione, allora ragazzi è finita, la stagione è finita, vediamo, in campionato siamo arrivati ai quarti, l'Atalanta prima, poi chi è che è retrocessa, la Venezia e l'Italia e la Spezia, poi in Supercoppa abbiamo vinto 2 a 1, quindi un trofeo ce l'abbiamo, e Coppa Italia 3 a 0, quindi due trofei, nella scorsa puntata con la Juventus abbiamo fatto zero trofei, quindi l'Inter è proprio in vantaggio, poi in Champions siamo riusciti ai quarti contro il Barcellona, e basta, allora vediamo i nostri cacciatori, allora vediamo, Immobile con 19 gol e Lautaro con 19, nuova, o vediamo gli altri, allora, Lea ha fatto più 2, con 9 gol, Immobile con 51 partite e 26 gol e 9 assist, allora vedete che il video finisce qua, iscrivetevi, ora quando finisce questo video uscite e andatevi a guardare quello della rebuilding della Juventus, iscrivetevi, lasciate like, e se arriviamo un dot di like, vi porto un altro episodio al più presto, esce un video ogni giorno, sempre se non succede qualche cosa, e ciao! 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 Grazie a tutti.